Iniziamo la preparazione della torta mousse ai tre cioccolati partendo dalla base. In una ciotola montiamo gli albumi con lo zucchero, non possiamo utilizzare la planetaria o le fruste elettriche. Dovremmo ottenere un composto gonfio e denso. A questo punto mettiamo da parte le fruste elettriche e utilizzando una spatolina inseriamo i tuorli poco alla volta. Mi raccomando, lavoriamo con molta delicatezza il nostro composto in modo da non smontare gli albumi che abbiamo appena montato. Una volta che avremo inserito tutti i tuorli possiamo aggiungere il cacao amaro in polvere. Mi raccomando, ricordatevi di settacciarlo perché eviterà la formazione di quei fastidiosi grumi che poi è difficile togliere. Anche perché dobbiamo sempre lavorare l'imposto con molta delicatezza per non smontarlo, se no tutta l'aria che avremo incorporato andrà via e quindi non avremo più quella morbidezza che è caratterizzata proprio a questo tipo di base. Una volta che avremo inserito comunque tutto il cacao amaro in polvere, lo versiamo in una teglia rettangolare precedentemente rivestita con la carta da forno. Lo spessore dovrà essere di circa un centimetro, quindi versiamo bene tutto il composto e poi lo andiamo a livellare bene. Mi raccomando, sempre delicatezza e non sbattiamo mai la teglia perché se no tutta l'aria che abbiamo inserito uscirà. A questo punto inforniamo a 180 gradi per circa 12 minuti. Per sapere se è pronto basterà appoggiare il dito sulla superficie, premere leggermente e se appena lo togliamo l'impasto tornerà ad alzarsi e diciamo l'impronta nel nostro dito sparirà, vuol dire che è pronto. Questo vale non solo per questa base ma anche per pasta biscotto. Una volta cotto lo lasciamo raffreddare. Poi prendiamo l'anello o la tortiera apribile che vogliamo utilizzare, nel mio caso un diametro 18, e ritagliamo il disco che ci serve e lo andiamo a posizionare in fondo alla tortiera, che ovviamente abbiamo precedentemente fasciato con carta da forno e mettiamo da parte. Ora prendiamo la gelatina e la mettiamo in una ciotola con abbondante acqua fredda a reidratare. Questo servirà per tutte e tre le mousse che andremo a preparare. Ci verranno all'incirca 10 minuti prima che la gelatina abbia raggiunto la giusta consistenza. Nel frattempo prendiamo il latte, lo mettiamo su un pentolino e lo portiamo a sfiorare il bollore. Poi aggiungiamo la gelatina strizzata e mescoliamo bene fino a che non si sarà completamente sciolta. Versiamo il latte bollente a filo sul cioccolato fondente che abbiamo sminuzzato e mescoliamo accuratamente con un cucchiaio o una spatolina fino a che non si sarà sciolto del tutto. Una volta che la crema al cioccolato fondente sarà pronta, la mettiamo a riposare in modo che raggiunga una temperatura di circa 35 gradi. Nel frattempo ci dedichiamo a montare la panna. Mi raccomando ricordatevi sempre di mettere la ciotola e le fruste 10 minuti in freezer a raffreddare. La consistenza della panna non dovrà essere montata a neve ferma, ma basterà una consistenza semi montata, quindi ancora bella morbida. Una volta che la panna sarà pronta, incorporiamo la panna montata alla crema di cioccolato fondente e mescoliamo delicatamente con una spatolina in modo da non smontare il composto. Quando entrambi gli elementi saranno ben amalgamati insieme, avremo una crema liscia e vellutata e andiamo a versarla nella tortiera dove abbiamo già messo la base al cacao. Muoviamo leggermente la tortiera in modo da livellare bene la nostra prima mousse, quella al cioccolato fondente. Riponiamo la mousse in frigorifero per almeno una mezz'ora. Nel frattempo prepariamo la seconda mousse, quella al cioccolato al latte. Quindi scaldiamo il latte e aggiungiamo la gelatina strezzata, mescoliamo e versiamo a filo sul cioccolato al latte che abbiamo precedentemente tritato. Mescoliamo bene fino a che tutto il cioccolato si sarà perfettamente sciolto. Mentre lo lasciamo raffreddare, pensiamo a montare la panna, di nuovo come prima, una consistenza semi montata, quindi ancora morbida. Incorporiamo la panna al composto di cioccolato al latte e mescoliamo delicatamente. Una volta che avremo incorporato per bene tutta la panna, otterremo una bella mousse di un colore marroncino chiaro. A questo punto possiamo prendere la tortiera dal frigo e versiamo sulla mousse al cioccolato fondente la mousse al cioccolato al latte e livelliamo. Riponiamo in frigo per almeno un'altra mezz'ora. Nel frattempo che la nostra mousse al cioccolato al latte era fredda, ci occupiamo della preparazione della mousse al cioccolato bianco, cioè l'ultima. Quindi scaldiamo di nuovo il latte fino a sfiorare il bollore, aggiungiamo la gelatina strizzata, mescoliamo fino a che non si sarà sciolta e versiamo a filo sul cioccolato bianco che avremo precedentemente tritato. Mescoliamo bene fino a che non si sarà sciolto del tutto e avremo una crema molto liscia. A questo punto, nel frattempo che la mousse al cioccolato bianco si raffredda, ci occupiamo del montaggio della panna. come sempre una consistenza semimontata, quindi morbida e liscia. incorporiamo la panna alla crema al cioccolato bianco e mescoliamo delicatamente sempre con una spatolina in modo da non ammosciare il composto. Versiamo l'ultima mousse sulla torta e riponiamo in frigo per almeno 5-6 ore. Prima di servirla, sformiamo e decoriamo con scaldi di cioccolato fondente.